Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante. Grazie. Torniamo a parlare del complesso caso di Pierina Paganelli. Nel condominio tutti erano al corrente della relazione tra Luis e Manuela, quindi l'ipotesi che Pierina sia stata uccisa per impedirle di scoprire questa relazione segreta appare poco convincente. Pierina stava infatti chiedendo informazioni ai vicini, il che porta a pensare che il movente fosse probabilmente di natura economica, legato a questioni di casa, denaro e prospettive future. La certezza sulla colpevolezza di Luis da Silva inizia a vacillare. Un elemento emblematico è rappresentato dal messaggio che Manuela ha inviato a Luis il 28 settembre, in cui esprime disperazione, lo chiama eroe e lo invita a trovare una soluzione. Questo potrebbe suggerire che la coppia stesse affrontando una crisi che li ha condotti a decisioni estreme. Un altro indizio è emerso durante un confronto in questura il 4 ottobre, quando Manuela, spaventata dall'eventualità di un arresto, si confida con Luis dicendo, ho paura che ci arrestino. Luis, in risposta, menziona anche Loris, lasciando intuire un possibile coinvolgimento di più persone. Tuttavia, Manuela minimizza, dichiarando di essere preoccupata solo per sé e per Luis in quel momento. Un altro dettaglio rilevante è il messaggio che Manuela inviò a Luis il 28 settembre, affermando, c'è solo un modo per risolvere il problema e tu lo sai. Interpretare questa frase come un riferimento diretto all'omicidio di Pierina appare improbabile, data la complessità della situazione. Quella sera tragica, nella casa di Manuela, sono stati osservati movimenti sospetti e diverse contraddizioni. Secondo la procura, Luis avrebbe avuto solo sette minuti per commettere l'omicidio, sbarazzarsi dell'arma e rientrare. Un lasso di tempo sufficiente, ma che solleva molti interrogativi. Manuela ha dichiarato di non aver mai perso di vista suo fratello, ma Loris ha sollevato dubbi sulla sua versione, domandandosi cosa Manuela abbia realmente fatto nei dieci minuti in cui si trovava in bagno. C'è poi il messaggio che Manuela ha inviato a Loris solo venti minuti dopo che lui aveva lasciato la casa, per accertarsi che fosse arrivato a Riccione. La risposta di Loris, sono già a letto, lascia perplessi. Come avrebbe potuto percorrere tutta quella distanza e già trovarsi a letto in così poco tempo? Questo intervallo sembra insufficiente per compiere tutte le azioni attribuitegli. La procura si concentra su un filmato registrato dalla telecamera di una farmacia alle 22 e 7, che mostra una figura con un oggetto sotto il braccio, ipoteticamente Luis. Tuttavia, le discrepanze e le testimonianze alternative rendono questa prova meno convincente. Nonostante tutto, Luis ha scelto di mantenere il silenzio, seguendo i consigli dei suoi avvocati. Manuela e Loris, invece, sembrano prendere le distanze, mentre Luis rimane muto, forse sperando che la verità emerga spontaneamente. Alla fine, la domanda rimane, cosa sanno davvero Manuela, Loris, Valeria e Luis che non è ancora venuto a galla?